vitri frigo arena preparato ogni incastro tra vl e tecno casa spiagge di pesaro al lavoro fra allestimenti e ritocchi dei prezzi incendio in un capannone fiamme in un deposito di monopattini sottraeva soldi alla madre in casa di riposo denunciato pesarese partono i 10.000 chilometri di danny walks europe carissimo pubblico di rossini tv buonasera e ben ritrovati al nostro telegiornale rossini news oggi è giovedì 19 maggio una data particolare per lo sport pesarese perché riporta la città a vedere un playoff di basket a 10 anni dall'ultima volta questa sera infatti la palla a due di una gara tre playoff e in questo servizio questo primo servizio andiamo ad approfondire gli ultimi preparativi sia dal punto di vista sportivo sia da quello della complessa concomitanza con la convention di tecno casa che si dovrà organizzare subito dopo il termine del match vediamo ci troviamo all'esterno della vitri frigo arena a poche ore dall'attesissima gara 3 dei playoff della vl alle 20 45 infatti la carpegna prosciutto pesaro di coach banchi proverà ad allungare la serie di questi quarti di finale che al momento sono due sono sul 2 a 0 in favore della virtus di scariolo dopo i due match giocati a bologna è un match attesissimo un match di playoff che non si vedeva al palazzo da dieci anni ma al di là del prevalente aspetto sportivo queste sono anche le ultime ore di calma prima di una vitri frigo arena nella quale ci sarà un via vai praticamente non stop e h24 ipoteticamente fino a domenica sera se la vl dovesse guadagnarsi anche gara 4 è una partita che però arriva dopo una complessa gestazione per far conciliare questo match di basket di playoff con la convention di tecno casa concomitante a questo evento che porterà 10.000 presenze qui la vitri frigo arena ed è immediatamente conseguenziale alla fine della partita lo staff di tecno casa lavorerà di notte per riuscire ad allestire la convention senza inficiare la partita di basket incastri che sono stati esaminati dalla commissione di vigilanza che si è appena conclusa è andata bene diciamo che c'è un evento dentro l'evento tecnocasa ha iniziato a montare tutte le strutture che gli serviranno per l'allestimento della convention già da lunedì oggi ovviamente a sospeso nel frattempo noi abbiamo rimontato il campo nel da basket all'interno del del catino dell'arena tutto bene ci sono solo dei dei travi tra lì ci sospesi che non vanno interferire minimamente con quello che è nell'assetto di gioco ne è soprattutto insomma la presenza del pubblico la commissione di vigilanza provinciale ha dato l'ok abbiamo la struttura disponibile per la partita della VL a capienza massima e dunque non inficia la partita e si riesce a creare anche la concomitanza con l'eventuale gara 4 sì non ci dovrebbero essere problemi anzi non ci saranno problemi è ovvio che il condizionale d'obbligo è quando si lavora però nel momento in cui questa sera la VL dovesse vincere come ci auguriamo ci auguriamo tutti quindi andare a gara 4 la convention terminerà la sera del del di sabato e le nostre la nostra struttura insomma i nostri addetti inizieranno a lo smontaggio e in contemporanea anche di nuovo il montaggio della del del campo per rendere fruibile già domenica per la VL per la Virtus che si dovrà ovviamente allenare ora spazio al basket a queste ultime ore dedicate all'acquisto dei biglietti per riempire la vitri frigo arena come nelle migliori occasioni del basket pesarese coach banchi nella conferenza pregara tenutasi presso il main sponsor banca di pesaro anche strizzato l'occhio all'abbraccio dei tifosi per far durare più possibile una serie playoff conquistata con un'incredibile rincorsa dall'ultimo posto in classifica e come detto speriamo di avere una prestazione che sia consona anche a una cornice di pubblico che mi auguro possa essere il giusto il giusto tributo ad una squadra e una città e un club che hanno fatto grandi sacrifici per essere qua a giocarsi la post la realtà è che ci piace l'idea di ritrovare l'abbraccio dei nostri tifosi il loro calore e spero che questo sia da motore da spinta a far sì che la squadra offra un'ennesima prestazione di di alto profilo che ci permetta di giocare una partita degna di uno scenario di questo tipo senza dimenticare appunto l'orgoglio che c'è la soddisfazione che c'è di giocare un playoff scudetto contro la squadra prima classificata e da poco tempo capace addirittura di vincere l'euro cup però non vogliamo essere solo spettatori e vogliamo dimostrare che questo possa essere un punto di partenza e questo un palcoscenico dove pian piano con il tempo e la continuità a pesaro possa ritrovare confidenza continua un mese di maggio con le temperature tipicamente estive con le spiagge di pesaro già popolate di bagnanti vediamo allora tal proposito come si stanno organizzando gli stabilimenti balneari fra allestimenti distanziamento e ritocco ai prezzi in queste prossime interviste realizzate dalla nostra new entry letizia moretti abbiamo superato la metà di maggio e il clima estivo è già alle porte molti cittadini hanno già inaugurato la loro estate con il primo bagno della stagione oggi andremo a scoprire insieme come si stanno preparando i bagnini per la nuova stagione balneare è già un maggio d'alte temperature che invita tanti pesaresi e turisti alle spiagge a che punto è l'allestimento di ombrelloni e lettini noi stiamo preparando i lettini siamo pronti per il prossimo fine settimana almeno per quanto riguarda il mio stabilimento è operativo al 90 per cento quindi salvo tempo cattivo ma le previsioni sono ottime vediamo come prosegue il meteo la partenza noi e come tutti gli anni siamo sempre sullo stesso passo adesso stiamo finendo le file aspettiamo giovedì o venerdì che ci faccia un riparcimento di sabbia e per giugno dal primo giugno dato originale della stagione si parte abbiamo già quasi montato tutta la spiaggia mentre gli altri anni eravamo molto indietro eravamo eravamo pronti per la fine di maggio siamo a metà del lavoro comunque siamo a metà maggio maggio veramente caldo e tanti anni che non era così caldo i pesaresi vengono si accontentano del lettino che comunque diamo a tutti da quest'anno non c'è più l'obbligo di distanza tra gli ombrelloni per il covid 19 vedremo spiagge più ristrette o manterrete comunque margini ampi sì un pochettino sì per poter recuperare un po di spazio quegli ombrelloni che si sono venuti a mancare nell'arco degli ultimi due anni e questo purtroppo a discapito degli albergatori quindi suppressione degli albergatori per poter dar servizio ai loro clienti abbiamo ristretto un pochettino sempre nel rispetto delle misure regolamentari e sì non abbiamo ridotto le le distanze perché comunque si 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 lavora molto si è lavorato molto bene l'anno scorso gli altri anni e nella nella zona praticamente nel nell'anno covid e non torneremo alle alle misure precedenti reputate l'erosione delle spiagge un problema critico per gli spazi disponibili per quanto riguarda noi sembra un problema critico perché per quanto facciano questi ripascimenti queste cose qui non c'è mai la sicurezza che si arriva a fine stagione tranquilli purtroppo sì abbiamo un litorale che non si capisce se per colpa di correnti se colpa di scogliere magari alcune messe bene alcune messe male a molti bagnini anche a noi da fastidio a livello nazionale ma anche locale si parla di un aumento generalizzato dei costi di ombrelloni lettini abbonamenti e anche il vostro caso sì il nostro consorzio ha fatto un piccolo aumento che va intorno ai 30 euro a ombrellone all'incirca dai 20 ai 30 euro a ombrellone gli aumenti sono stati indiscriminati su tutto basti pensare che un lettino nuovo causa l'alluminio l'aumento d'alluminio delle tele in plastica e tutto ha subito un aumento di circa 40 45 euro non è poco e ci sarà un pochettino d'aumento 30 40 50 euro d'aumento ma non è elevatissimo come come tutti i prezzi servato l'acqua la luce la benzina al diesel c'è tutti gli aumenti anche qui abbiamo dato qualcosina di aumento nel mio caso no siamo rimasti ai tariffi dell'anno scorso no ho fatto solo dei piccoli arrotondamenti non ho aumentato chissà cosa ci siamo accordati su un piccolo aumento di 15 20 euro ma nel totale perciò si tratta di pochi euro di pochi euro sì noi abbiamo fatto un aumento ma soprattutto perché abbiamo fatto tutta l'attrezzatura nuova e sia umberlone che lettine abbiamo fatto un grosso investimento soprattutto anche a riguardo della bolkestan che nel 2024 non si sa come andremo a finire però noi andiamo avanti per la nostra strada e diamo un ottimo servizio ai nostri clienti e quella che avete visto è solo una parte di quello che vedrete poi nella prossima puntata di vox pop su questa tematica vox pop ritorna infatti venerdì alle ore 19 e potrete avere un approfondimento proprio su questo argomento ora però cambiamo completamente tema secondo i dati forniti dall'ufficio scolastico regionale sono complessivamente 547 i bambini e i ragazzi ucraini accolti nel sistema scolastico marchigiano dall'inizio dell'emergenza umanitaria i minori accolti sono 60 in più rispetto alla settimana scorsa la provincia di pesaro e urbino e quella di macerata sono in testa alla classifica regionale con 137 giovani ucraini ospitati ed ora passiamo alla cronaca perché c'è stato un incendio questa notte in un capannone di pesaro in via divisione acqui i vigili del fuoco sono infatti intervenuti all'interno di un deposito di monopattini elettrici utilizzando due autobotti per spegnere le fiamme ed evitare il propagarsi del rogo gran parte della struttura è stata salvaguardata e non si segnalano persone coinvolte sul posto anche i carabinieri che indagano sulle cause dell'incendio ancora da accertare in questo prossimo servizio ci occupiamo invece di un'operazione della guardia di finanza che ha denunciato per un peculato un pesarese di 54 anni prelievi di contanti e trasferimenti di fondi non giustificati così un 54enne pesarese si era appropriato di 40 mila euro appartenenti alla madre ricoverata in casa di riposo peccato per lui che è stato però scoperto dalla guardia di finanza di pesaro che lo ha segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di peculato un reato ascrivibile al fatto che l'uomo in questione si era appropriato di denaro durante l'esercizio della sua funzione di amministratore di sostegno della madre in ferma le fiamme gialle sotto la direzione della procura della repubblica di pesaro e dopo scrupolose indagini anche bancari sui conti del soggetto hanno ricostruito gli eventi è emerso che l'uomo avendo per ragione del proprio servizio la disponibilità del denaro della madre e della quota versata a favore della donna da parte del comune di pesaro come contributo al pagamento della retta mensile della casa di riposo si era appropriato di 40 mila euro nel periodo compreso fra il 2017 e le 2019 la procura ha così disposto il sequestro preventivo strumentale alla confisca diretto per equivalente delle somme di denaro e di ogni bene mobile e immobile nella disponibilità dell'indagato fino a concorrenza del profitto del reato sequestri che si sono tradotti nella confisca di liquidità bancaria e di una moto intestata al 54enne per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'ipotesi di peculato Un'altra operazione della guardia di finanza arriva dal mare di Senigallia dove una moto vedetta della stazione navale delle fiamme gialle di Ancona ha soccorso una barca a vela in avaria a un miglio a largo dal porto di Senigallia. La barca era di una coppia di anziani di Fano che si stava dirigendo verso Ancona ma che si è ritrovata col motore fuori uso e con lo scafo non più governabile a vela per le avverse condizioni di mare mosso. L'imbarcazione è stata rimorchiata e ricondotta in porto dalla stessa moto vedetta. C'è stata la visita a Pesaro da parte del sottosegretario della difesa Giorgio Moulet che ha incontrato il personale del 28esimo reggimento Pavia dell'esercito esprimendo apprezzamenti per una realtà all'avanguardia unica nel suo genere sul fronte delle comunicazioni operative e che vede gli specialisti delle Pavia presenti in tutti gli scenari militari più delicati. Il comune di Pesaro ha assegnato a Silvio Cattarina e alla memoria della maestra Aldina Rombaldoni il premio Le finestre fiorite di Maria Pia Gennari. Il premio è intitolato alla compianta assessora pesarese e al suo impegno altruistico verso gli invisibili della società. Valori che sono stati riconosciuti allo psicologo Silvio Cattarina fondatore della comunità L'imprevisto e alla maestra Aldina Rombaldoni a cui ha dato il premio alla memoria per la sua eredità lasciata al centro aiuto alla vita di Pesaro. Si sono conclusi i lavori della commissione istituita per la scelta del logo del brand Riviera del San Bartolo di cui fanno parte le tre amministrazioni di Pesaro, Gabice Mare e Gradara. Sono stati 48 gli elaborati presentati arrivati da tutta Italia a vincere è stata la designer e grafica Laura D'Amico che vedete in questa foto. La nuova immagine della riviera San Bartolo sarà presentata pubblicamente venerdì 27 maggio all'Eder Rock di Gabice Mare durante la quinta edizione del workshop Fare Rete per il territorio. Restiamo a Gabice in particolare all'Hotel San Marco dove oggi c'è stata la presentazione della ventitresima edizione dell'MG Event dedicato alle auto storiche. Un evento organizzato da Confcommercio Marche Nord. È un evento che nasce nel 1992 e che fa confluire qui a Gabice Mare tanti possessori di auto MG. L'MG è un'auto storica inglese, un'auto sportiva. Ricordo che la prima edizione del 1992 fu realizzata quando io ero presidente dell'azienda di soggiorno qui di Gabice Mare, quindi ho una memoria storica di questo evento che ha portato complessivamente diverse centinaia di appassionati qui a Gabice. Ma la cosa bella di questa manifestazione è il collegamento con il territorio. Sì, questo evento è molto importante per il territorio perché con le loro auto fanno delle tappe nell'entroterra e vanno a conoscere tutti i borghi e il circuito della bellezza e possono ammirare ma anche degustare i nostri cibi nei vari ristoranti che li portiamo. Quest'anno peraltro c'è questo connubio forte con l'itinerario della bellezza per cui il progetto di Confcommercio per cui diverse tappe e diversi ristoranti che saranno coinvolti in questa iniziativa fanno parte dei comuni del nostro circuito dell'itinerario della bellezza, quindi Apecchio, Cantiano, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche e Urbino per finire. Ed ora parliamo di sport e di grandi imprese. Parliamo di un'avventura molto particolare, quella che sta per intraprendere un quarantenne pesarese pronto ad attraversare l'Europa a piedi per 10.000 chilometri sostenendo una nobile causa. Dani Walks Europe è intitolata così la camminata solidale che il pesarese Daniele Grassetti farà dal 31 maggio attraversando gran parte del continente europeo. Circa 10.000 chilometri per quasi 400 giorni di marcia, tra strade, sterrati e sentieri di montagna. Un'idea nata nel periodo di lockdown per alimentare motivazione ed entusiasmo, spingendolo poi a progettare questo viaggio in collaborazione con la cooperativa Alfa, che dal 2001 si occupa di persone affette da patologia psichiatrica. L'iniziativa nasce un anno e mezzo fa, quindi quando eravamo chiusi in casa diciamo che è stato un modo per cercare motivazione in un progetto che ancora non avevo neanche ben chiaro, però intanto ho cominciato guardando un po' di mappe sui parchi che c'erano in Europa, vari cammini da fare e poi la cosa mi è piaciuta e li ho cominciati a unire, è venuta fuori l'idea di questi 10.000 chilometri e mi è piaciuta molto, mi è piaciuto molto progettarla e così che mi sono convinto. Un progetto legato a questa salute mentale per quale motivo? Innanzitutto perché è servito a me in quel periodo per avere entusiasmo, per mantenere l'entusiasmo di tutti i giorni e poi perché stare in natura, dei cammini anche di più giorni, secondo me sono esperienze che fanno molto bene e specialmente in questo contesto storico in cui siamo abituati alla vita di città, ad avere sempre le ore serrate, è un ritmo che non è il nostro, probabilmente non è un ritmo adatto all'essere umano e forse un ritorno in natura invece è salutare. Si parte il 31 di maggio, quindi manca poco, il 31 di maggio alla Pala del Pomodoro, da lì la prima tappa è fino a Morciano, da lì in diversi giorni arriverò in Austria, poi dopo l'Austria Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Germania, Olanda, Belgio, Francia, Spagna, Portogallo e prevedo i Balcani, non so se riuscirò a farlo, secondo me completerò 10.000 chilometri prima di arrivare ai Balcani, però è già tutto mappato anche nei Balcani volendo. Il progetto prevede anche una crowdfunding, ovvero una raccolta fondi che finanzerà sia il viaggio di Daniele che la cooperativa Alfa nelle loro iniziative. Il crowdfunding rimane attivo per tutta la durata del mio cammino, si dona in maniera molto semplice, basta andare sui miei profili social, si chiamano Dani Walks Europe, si sono su Facebook e su Instagram, c'è sempre un link, anche nella biografia c'è un link per la donazione. Noi abbiamo creato dietro l'attività di trekking che da anni facciamo, abbiamo fatto un'esperienza nel Cammino dei Briganti, tra Bruxelles e Lazio, dove assieme a un regista professionista abbiamo in qualche modo realizzato un documentario che si chiamano i Briganti. Daniele ha visto, ha avuto occasione di vedere questo nostro docufilm, si è ulteriormente appassionato anche al nostro tipo di lavoro e da lì è nata questa sorta, facciamo qualcosa insieme ed è partito il tutto. E allora davvero in bocca al lupo a Daniele Grassetti, chiaramente vi daremo poi racconto e testimonianza di questo lungo lunghissimo viaggio in Europa. Adesso invece andiamo a raccontarvi la grandissima programmazione di questa sera, questa sera le 21.20 su Rossini TV, vi raccontiamo quello che è stato il Pesaro Wine Festival. Subito dopo cambiamo argomento e ci spostiamo all'evento che abbiamo seguito domenica scorsa in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, la giornata dello sport al Parco Miralfiore. Domani mattina torna la nostra rassegna stampa, con voi ci sarà il nostro giornalista Daniele Sacchi in diretta alle 7.20. E poi ancora vi ricordiamo che domani torna questa seconda puntata di Vox Pop alle ore 19 e come avete visto anche dal telegiornale parleremo dell'estate che è alle porte, quindi il commento dei bagnini pesaresi sono o non sono pronti per questa nuova stagione? E venerdì, subito dopo, quindi alle 20, troverete il Valle Foglie Pian del Bruscolo Magazine, qui invece siamo alle ultime battute di questo programma perché finirà alla fine di maggio, condotto da Edoardo Razzi. E sabato di questa settimana torna lui Pesaro TV, ospite alle 13.30, mi raccomando non perdete la puntata, ci sarà Camilla Morgia, assessora alla crescita. E sabato, 21 maggio alle ore 18, in diretta su Rossini TV Canale 80 e anche sulla nostra pagina Facebook, Real San Giuseppe Italservice Pesaro. E come vedete è davvero grandissima la programmazione di Rossini TV per i prossimi giorni, quindi continuate a seguirci, io vi auguro davvero un buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie.